Bertà Ortolani, a pochi minuti anche da questa notizia della vittoria di Ivan Costantini con proporzioni davvero incredibili, lei da sfidante che cosa si sente di dire? Io ho già fatto la mia telefonata a Costantini per fargli gli auguri di buon lavoro, le congratulazioni, per chiedergli di essere questa volta, se ci riesce il sindaco di tutti, per il resto siamo sereni perché abbiamo fatto una campagna elettorale offrendo un'alternativa alla città. Continueremo a fare un lavoro di opposizione in Consiglio Comunale, sarà un'opposizione serena e costruttiva come è stata nei cinque anni scorsi, ma ci impegneremo senz'altro molto per offrire un'alternativa di una politica diversa, rinnovata, come la pensiamo noi anche in città. Quindi continueremo con il nostro attivismo. Percentuali bulgari, si dice in questo caso col gergo politico, quelle che erano una volta le percentuali che aveva giù le nuove il centro-sinistra. Ecco, cosa manca al centro-sinistra per tornare a governare questa città? Ma io direi cosa ha invece il centro-destra per avere queste percentuali? Sicuramente è una politica, l'abbiamo fatta insieme la campagna elettorale, quindi l'abbiamo osservata bene. Una politica fatta di slogan, di promesse, insomma di tante cose che non sono ciò che la politica dovrebbe essere. Però il risultato c'è stato e quindi noi lo accettiamo serenamente perché è il volere dei cittadini. Che tipo di opposizione farete? Faremo un'opposizione sicuramente attenta, quindi qualcuno dirà severa, ma è giusto che sia così, ma sempre costruttiva perché negli anni abbiamo sempre affiancato alla critica, all'obiezione, una proposta. Quindi continueremo in questo modo. Posso chiederle cosa si aspettava alla fine della campagna elettorale, sicuramente non queste proporzioni? Ma veramente dopo aver visto il voto dell'europea mi aspettavo queste proporzioni perché Giulianova ha dato oltre il 30% al partito della fiamma, quindi a Fratelli d'Italia e questo è un dato politico molto forte, un dato superiore addirittura alla media nazionale. Quindi evidentemente Giulianova in questo momento è una città che ha una sensibilità che si rivolge alla destra a destra. Voi ovviamente insieme alle liste civiche avevate all'interno, ovviamente il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che a questi due partiti si sente di dire qualcosa, magari di continuare il lavoro iniziato insieme per poi tra cinque anni stravolgere quello che è stato il risultato di quest'anno? Noi saremo un gruppo unito, continueremo ad essere un gruppo unito perché io sono espressione dell'associazione del cittadino governante, ma devo dire che il Movimento 5 Stelle è sempre stato su posizioni molto vicine alle nostre. Il Partito Democratico ha fatto un grande lavoro di rinnovamento, tant'è che i vecchi pezzi del Partito Democratico, sono tutti adesso ben accasati all'interno della maggioranza di Costantini, quindi questo mi dà molta speranza e io direi che l'appuntamento potrebbe essere quello delle prossime elezioni politiche tra tre anni.